Signori miei, signori miei, partiamo dalla premessa, partiamo dalla premessa, la premessa è che adesso si fa tosta, perché adesso saranno o Sassuolo o Atalanta fuori casa, il Sassuolo ci ha appena affrontato, l'Atalanta pure e ha pure vinto. Con entrambe le squadre abbiamo faticato tanto, anzi forse abbiamo faticato più con Sassuolo che con l'Atalanta, quindi sarà molto tosta, questo è stato il preambolo, sono partito direttamente dal futuro, adesso andiamo un attimo a un contesto generale. Per me la Coppa Italia è un trofeo del cazzo, è un porta ombrelli, per me Coppa Italia e Super Coppa Italia sono trofei del cazzo, non gli ho mai dato importanza né quando gli ho vinti né quando gli ho persi, quindi dovesse in caso succedere qualcosa non venite a cercare me, vi metto già le mani avanti prima che possa scoppiare qualche mezzo casino qua. Io non sono come qualcuno che quando vince alcuni trofei, sono la nuova Coppa del Mondo, quando li perde non contano un cazzo, a partire dagli scudetti, io dico che gli unici trofei forse che valgono veramente più di qualcosa siano i trofei europei maggiori, ovvero Champions League, Europa League, lo scudetto e poi secondo me robe come Conference League e Coppa Italia e Super Coppa Italia sono trofei che lasciano un pochino il tempo che trovano. Ed è un gran peccato, ed è un gran peccato perché la Coppa Italia fatta in un altro modello potrebbe essere un torneo super prestigioso che secondo me potrebbe anche distogliere l'attenzione dal campionato, invece purtroppo non è così. Il problema non sono le squadre, il problema non è chi la vince, non è chi la perde, ma il problema è proprio il format di una Coppa che secondo me andrebbe rivoluzionata da capo. Fatela più prestigiosa e ne riparliamo. Veniamo alla partita di stasera. Non era assolutamente scontato passare, sebbene rispetto all'anno scorso l'avversario sia molto 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 più scarso rispetto al Torino dell'anno scorso che ha fatto un buonissimo, una buonissima stagione, soprattutto contro il Milan che l'ha battuto due volte su tre. Un Torino che si presentò a San Siro rimase in dieci uomini, vinse pure la partita supplementaria al 114esimo con gol di A dopo. Quasi, quasi un anno dopo affrontiamo il Cagliari che sta lottando per non retrocedere, poveraccio, e che il passaggio del turno fosse, diciamo, non scontato, ma una cosa su cui si poteva fare parecchio affidamento. Ecco, Cagliari che comunque parte bene perché parte bene, fa primi dieci minuti di gran calcio, arriva a sfiorare il gol proprio di così. Ci metto una pezza mirante che comunque vi ricordo è il portiere del Milan, pagato dal Milan, se para, fa il suo lavoro. Lo stesso non si può dire per il portiere del Cagliari. Gol dell'1-0 con sventagliata di Ternandez, incredibile. Gol da buona pace d'aria di Jovic, secondo e terzo gol, derivati da una piccola paperella del portiere. Pioli manda in campo primavera perché ovviamente il ragionamento è stato, almeno se si deve spaccare qualcuno, si spaccano loro, e almeno le prime linee e le seconde linee, diciamo, ce l'ho mezze salve. Scelta che all'inizio non mi ha mostrato tanta fiducia, perché proprio è Pioli che non mi mostra più fiducia. Però, evidentemente, i giocatori che non giocano mai hanno più fame di alcuni titolari che proprio sembra che facciano favore ai tifosi della società di scendere in campo e partono ovviamente con un alto ritmo rispetto ai tre titolari che c'erano in campo, ovvero Jovic, Calabria e Ternandez. Ora mi direte, a Jovic non è un titolare, per me Jovic è un titolare. E se non lo è, merita di essere, a tutti gli effetti. Renders, Ternandez, Calabria e Jovic, scusate, non tre ma quattro, hanno un altro passo, infatti i primi due gol sono totalmente targati da Ternandez e Jovic. I primavera, invece, vengono fuori nel corso della partita, complice anche il fatto che il Cagliari non ha provato minimamente a reagire al gol prima e ai gol dopo del Milan. E quindi primavera, soprattutto, un tale chiamato Alex Gimenez, per cui il Real ha il diritto di recompra 5 milioni, ha fatto una partita incredibile. Acquistano fiducia e portano, alla fine, mattoncino dopo mattoncino, al gol del 3-0 di Chaka Traoré. Chaka Traoré, eravamo prima in live e dissi che aveva giocato contro di noi in un Parma-Milan del 2021, dove vincemmo 3-1 con gol di Ternandez, che sì, e Leao, fece il momentaneo 1-1 Gagliolo, se non mi ricordo male, con la partita lì, Chaka Traoré entrò a metà del secondo tempo e fece benissimo. Il Milan poi lo comprò, l'abbiamo ovviamente lasciato marcire due anni in primavera, però, almeno oggi, ha risposto presente alla chiamata dell'allenatore, di quel mezzo allenatore che abbiamo. Ovviamente poi subentrano i titolari, subentra Pulisic, subentra Florenzi, che anche per me lui è un titolare acquisito, per me 100 volte meglio di Calabria, nonostante l'età, entra Leao, che aveva l'occasione più ghiotta per rimettersi in riga e l'ha fortunatamente colta. Leao, che stasera non aveva pressioni perché entra sul 3-0, dove non c'era l'urgenza di dover segnare un gol, alla fine lo trova. Poteva anche trovare il quinto, ma va bene così, già segniamo poco, figuriamoci oggi che ne abbiamo segnati quattro. E speriamo che il gol di Leao serva a dargli un pochino di fiducia per poi andare avanti nel migliore dei modi e tornare in Leao che eravamo abituati a vedere. Non necessariamente il Leao di due campionati fa, sebbene facesse tanto comodo, ma il Leao almeno dell'anno scorso. Perché ragazzi, contro il sassuolo, io mi prendo la responsabilità di dire che è stata la peggior partita sua dell'anno. Assolutamente sì. E questa cosa mi dispiace tantissimo. Oggi abbiamo avuto una dimostrazione che Pioli le alternative ce l'ha e una cosa che mi ha fatto rodere molto il culo è stata che io non ho mai capito perché a Dio abbia fatto tutta questa panchina in questi due anni. Io posso capire che Benazè, Reinders, Loftus-Cheek e Musa siano sopra di lui. Anche se Musa posso avere i miei dubbi. Però ragazzi, adesso che Benazè va via, quindi rimarranno Reinders, Loftus-Cheek e Musa. Musa che non sta benissimo e sicuramente uno dei tre, prima di due o tre partite, si farà male. Non gliela sto tirando ma tanto vi conosco. Per me Adli lo spazio merita. Lo merita come l'avrebbe meritato in quei mille e mila minuti che ha giocato inutilmente Krunic. Non concludendo una veata minchia e ne proprio creando più danni che altro. Se avesse giocato Adli magari, non dico che avremmo un punto in più, forse nemmeno quello però... Secondo me qualche bestemmia in meno l'avremmo sicuramente tirata. Arrivo al capitolo Ternandez-Jovic. Ternandez che sempre la prima parte del campionato fatica, la seconda comincia a carburare. Nonostante aver giocato male col Sassuolo, speriamo che oggi questa prestazione sia una delle tante che lo riporti ai livelli del Ternandez che conosciamo. È la prima prestazione del numero 19 da centrale pienamente sufficiente. Anzi oggi non è pienamente sufficiente, oggi è un bel voto ma proprio pieno, tondo tondo. Ternandez-Jovic che più gioca più fa gol, anzi più non gioca più fa gol. Ternandez-Jovic ti ha già messo a referto, a parte l'assist contro il Newcastle che vale tanto, ti ha messo già a referto. Atalanta, Frosinone, Sardinitano, due gol stasera ti ha già messo a referto, insomma cinque gol. Che io sinceramente doveva recuperare solamente la forma perché io qualche chance in più gliela darei. Poiché Giroud non si è mai rotto, ha praticamente giocato tutte le partite escluse squalifiche. Secondo me Jovic qualche chance in più la merita. E quando io a volte le colgo ma mi sbaglio, ho sbagliato a dargli contro a inizio stagione e quindi mi prendo l'responsabilità di chiedergli umilmente scusa. Partita che in Milano, ripeto, doveva vincere, che ha vinto senza troppi patemi. Adesso ci sarà un grande ostacolo che saranno i quarti di finale con o Atalanta o Sassuolo, domani sera lo sapremo. E del resto ragazzi, partita quasi perfetta perché viene macchiata da questo gol subito che noi ovviamente dobbiamo sempre prendere. Non riusciamo mai a fare due clincite di fila. Gol assolutamente evitabile, è vero che con la deviazione in cui il tiro diventa imprendibile ma abbiamo perso una palla al centrocampo che... Gesù spostati. Detto questo, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, da Adria è tutto, un bacione. Statemi bene, sempre Forza Milan, domani mattina, alle 7, come tutte le sante partite, la live reaction uscirà esattamente qui sul canale. Bella a tutti, alla prossima.